Un vero e proprio blitz con tanto di spiegamento di forze dell'ordine stamattina in Via Lago di Capestrano, nel quartiere di Rancitelli a Pescara, per l'esecuzione su disposizione dell'Ater della demolizione dei cancelli e delle inferiate che delimitano alcuni palazzi popolari. Residenti increduli nel vedere operai e lavoro per smentalare quello che da tutti era considerata una sorta di protezione senza peraltro alcun preavviso. E noi abbiamo chiesto come ci dobbiamo comportare, cosa fare, cosa farà per i vicini, cosa si farà, vi faremo sapere. L'ultima parola famosa del signor Pisani che anche qui, che non me l'ha voluto confermare, eravamo in due noi, ha detto vi facciamo sapere come andrà a finire. E oggi è questa qua la situazione. La terra sostiene che queste inferiate sono abusive e che già da tempo andavano buttate giù. Invece, sempre secondo i residenti, pare che su queste costruzioni sia stata fatta una sanatoria una quarantina di anni fa, ma non si ritrova la documentazione. E così stamattina, oltre agli operai, anche polizia, carabinieri, vigili del fuoco, guardie di finanza e polizia locale a presidiare l'improvvisato cantiere. La differenza tra palazzi senza inferiate e palazzi con le inferiate. Le immagini parlano più delle parole. Lì dove inferiate non ci sono androni presi d'assalto da balordi e tossici, con sporcizia e perfino urina. Lì dove invece ci sono ancora le inferiate, tutto pulito e in ordine. Perché non ci possiamo difendere noi delle case popolari? Perché se ci difendiamo e prendiamo una denuncia ci tolgono pure la casa a noi. Capito dove c'è il problema? Come si sa dire? Cornut e mazziate. È la verità purtroppo, sono delle parole, ma è così. Perché non ti puoi, se tu trovi una persona a urinare, a fare i bisogni nel portone, lo devi invitare a casa tua. Perché non è igienico, no, a casa mia lo devi invitare, no, per essere una persona corretta. Mica gli puoi dire che sei a fallare, perché magari ti cacciano un cortello, ti aggredisco. Io mi potrei pure difendere, non mi posso difendere.